ci siamo arrivati amici siamo oltre 500 addirittura stanotte avete fatto il balzo siamo a 507 possiamo partire con il giveaway allora potete vincere uno dei miei coltellini questo vi finirò anche il foderino ovviamente prima di mandarlo è foderino che viene per il porta al collo ma portati portabile anche a alla cintura o col fianco così o dietro la schiena a cintura in orizzontale e va definito ovviamente ora lo vedete così ma verrà tutto stondato queste sono più piccole comunque il coltello è pronto e è un vero rasoio è una cosa impressionante cosa dovete fare per vincere questo coltellino allora punto primo dovete iscrivervi al mio canale ricordatevi che dovete attivare la visibilità delle iscrizioni perché se se vincete io poi devo poter controllare che siate effettivamente iscritti se non c'è la visibilità attivata io non lo vedo e passo al vincitore successivo seconda cosa dovete commentare questo video che sto facendo adesso dovete commentarlo come vi pare basta che non ci mettiate sotto un'offesa poi va bene va bene io ci sono per giveaway mi piace il tuo canale quello che volete basta che commentiate il canale in maniera che a me mi rimanga traccia dei vostri account avete tempo fino al 30 settembre 2015 mezzanotte del 30 settembre 2015 tutti i commenti usciti dopo il 30 settembre non li potrò prendere in considerazione dopo di che io ci vorranno due o tre giorni almeno perché youtube mi aggiorni tutte tutte le sue cazzate che fa perché ci mette una vita non so perché dopo di che io estrarò a sorte uno di quelli che hanno commentato il video solo il vincitore dato che non parliamo di una torcia elettrica o d'un fischietto o d'uno zaino ma è un coltello solo il vincitore mi deve mandare il documento di identità in copia per dirmi che è maggiore n oppure mi deve mandare il documento di identità di un genitore con un foglio firmato quindi fate la scansione del genitore che dice sì mandare il coltello a mio figlio che è minore n perché è un coltello ragazzi non è colpa mia sono costretto a fare sta cazzata qua d'altra parte io faccio coltelli se facevo le torce elettriche vi davo quella è che vi volevo dare qualcosa di fatto da me con le mie dolci manone cosa vi devo dire iscrivetevi commentate condividete il video mi fate molto piacere se condividete i miei video su youtube su facebook su quello che volete condividete su su twitter sul vostro social media io spero di fare un altro giveaway presto a mille o vediamo un po a quanto però se mancate questo sapete che ci saranno altri giveaway in futuro noi ci vediamo al prossimo video che ho in progetto diversi video interessanti sono un attimino impegnato quindi può darsi che i video mi scalino un po nel tempo purtroppo problemi di vita reale ma sappiate che ho parecchie cose che devo girare e alcune anche suggerite da voi e lo farò il prima possibile grazie a tutti amici un abbraccio un bacio ciao grazie a tutti amici un bacio grazie a tutti amici un bacio grazie a tutti amici un bacio Grazie.